Eeeh, ciao a tutti amici di Confineonver, oggi siamo tornati con un nuovissimo video Ragazzi, oggi siamo tornati su Minecraft Tita, dopo un mese che non ve lo portavo ragazzi Siamo tornati Come potete vedere, ho cambiato la skin del canale, quindi ve la faccio vedere dietro al simbolo di Youtube E ho pure cambiato la texture di blocchi A me, cioè, questa shaders mi piace molto, shaders texture, come la volete chiamare Prima di cominciare con il video vorrei lasciarvi proprio qua sopra un sondaggio Se volete mantenere questa texture o meno Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo E oggi siamo qui per finire la nostra caduccia Se non riusciremo in questo episodio, nel prossimo episodio Però fatto ciò, cioè fatto sta che siamo qui per finirla Quindi direi di metterci subito all'opera Scaviamo bene qua in parte perché voglio fare una sorta di motivo carino Perfetto Abbiamo fatto una piccola rientranza nel muro Qua facciamo questi strani motivi con il legno Che ragazzi mi sono venuti in mente proprio prima di registrare Perfetto Perfetto ragazzi, perfetto Mi piace molto perché L'unica cosa che non è molto Non è simmetrica Non è simmetrica questa casa Però ragazzi, scialla Ce ne faremo una ragione Direi di iniziare a fare un po' Quel che sarà il nostro salone Ebbene ragazzi, ho scavato tutto quanto Perché qui ragazzi, qui sarà la hall Cioè noi entreremo da qua, qui ci sarà la hall E poi successivamente qui sotto Ci sarà il salone principale Che porterà a tutte le varie stanze Quindi direi di abbellirlo con quello che abbiamo Quindi ragazzi, qua sopra il sondaggio Per vedere se voi volete la textura o meno E naturalmente cosa fa Free Bomber Finito il granito Perfetto ragazzi Abbiamo i pezzi mancati Tra Perfetto Perfetto, perfetto Mi piace sempre di più la casa Come sta procedendo Ragazzi, magari in questo episodio Faremo solamente il salone della casa Guardate come sono belli i bastoni Con questa textura Cioè è molto realistica È molto realistica questa textura Più che altro ci sono certi blocchi Che sinceramente cambierei un po' Allora, la ho finito Nel frattempo mi faccio una chest Ho scattato su di questo Che tanto è finito Vi devo fare una chest Perché Praticamente Non ho più spazio per blocchi Ma Accettiamo le tappe Quindi mettiamo Solo mettiamo qua E mettiamo dentro Tutto di roba che Ora non ci serve Perfetto raga Perfetto Adesso noi andremo a fare Tutta questa parte Di legno E una stimana perfetto ragazzi perfetto come potete vedere ho abbellito tutto quanto con questo motivo molto bello e direi adesso di fare questa parte qua sopra che ragazzi sinceramente non so che farci qua sopra vediamo un po' i materiali che ho a disposizione, un po' di diorite tanto granito quindi potremmo farci qualcosa in granito perfetto ragazzi c'è bastato guardate che bellezza ragazzi mi piace un casino sta roba veramente tanto e bene ragazzi anche il video di oggi su minecraft ita termina qui 10 like iscrivetevi se non siete ancora iscritti per non perdervi nessuno dei miei video in descrizione trovate il link della mia pagina instagram ufficiale e noi ci vediamo in un prossimo video buona giornata e ciao da free bomber ciao 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 ciao